Max Bologna è un'associazione sportiva diretta artistica che combatte le discriminazioni attraverso lo sport discriminazioni in base di genere, in base all'orientamento sessuale a razza, al colore della pelle, alla religione e anche alla nonabilità In generale quando si gioca in campo non c'è nessun tipo di differenza nel senso che durante la partita vince semplicemente più forte indipendentemente da essere omosessuali o etrosessuali è successo invece che prima o dopo la partita siano state qualche frase che non è delle migliori quindi ragazzi andiamo a giocare contro i froci oppure cazzo ragazzi abbiamo perso contro i froci ebbene sì, spesso la gente perde contro i froci Allora sicuramente Balsi Bologna ha due finalità una la più immediata è quella di creare una casa per persone che non si sentono sicure del proprio essere in un ambiente più quotidiano quindi qua a Balsi Bologna puoi fare sport, giocare a calcio essendo te stesso senza dover far finta di essere un'altra persona Balsi Bologna ha poi anche una seconda finalità che è quella di prettamente sociale quindi di combattere l'omotransfobia attraverso lo sport che pensiamo sia un mezzo più facile per arrivare al grande pubblico sono sempre parte della squadra stai sempre parte della squadra Yeah!